musica musica mi ha permesso in questo nuovissimo video di minecraft è martedì adesso io dove cavolo devo andare grazie al senso dell'orientamento ma io poi non ci avevo Evita tutti Evita tutti Comunque ho cambiato il puntatore Non ho la skin di Hero perché in questo momento È in manutenzione Devo cambiarla Madonna santa c'è un clipper giusto Ah no non è un clipper Era dell'erba Ma siccome io ho Il terrore dei clipper Qui ho fatto una settoria Che mi pare che devo anche completare A casa se ne salvi Io quasi Non esco Volevo andare a dormire nel letto di mio cugino Ma non posso Qua mi ha levato pure La cesta dei materiali Ma levami quella del cibo Che è mezza vuota Oggi ho intenzione di andare Ma io l'ho fatto bene A fare quella tettoia Manca una spada Mi ha lasciato forse Manca una spada C'ho Non è mica mica che c'è No manco l'alimentario C'è Intanto sto ballare di fiano Non so perché ce l'ho qua Ve lo la mettono qua Io non so Mi devo fare una spada No ce l'ho la capo Sono meno Meno male E poi ci morirò Quindi la mappa Magari la teniamo E appena si fa giorno Io combatto Perché se combattiamo di notte Qua non finisce bene Almeno di giorno E' meglio Vabbè in caso Mi scavo un'uscita di qua E niente da fare Cioè non è che Vabbè Noi ci vediamo quando si fa giorno Se si farà giorno Perché ci sarà un'eternità Ok Direi che possiamo ripartire Si è ripartito Guarda la mano E morirò tantissimo Sto facendo Un gioco No dai Vuol dire che non ci sarà Va bene E quando finisco di girare il video Devo fare delle scale Perché questo è Il trampolino Qui ecco Off camera Io ho fatto Si è partito Off camera Io ho fatto A Dario questo regalino Che per adesso Siccome non abbiamo l'ora E' così Un pezzo di slime Però poi qua sopra Ci mettere un tappetino nero E qua attorno Di un colore Di ferro di un colore Qualcosa Quanto ti odio Lui c'ha già il letto Che è da me Da molto poco tempo Comunque Adesso ritorniamoci Nella casa Che devo prendere Un paio di cose Questa casa Adesso la miglioriamo Assieme Intanto Mi prendo 55 di teglia Questa la posso Mettere qua Ho solamente Due stringhe Devo vedere La casa Che è sempre con lui Mi prendo anche Del pane Siccome poi Di giorno C'è meno Pericolo Che muoio Mi prendo anche La mappa Altrimenti Qua muoio Non so Precisamente Il pane Quanto da Però bisogna Di mani Ci farà Un bel po' Devo migliorare La casa In altezza Che poi Sopra Ci voglio fare La mia Camera Da letto Qua sotto È la zona Lavoro Vediamo Questo Che cavolo Non ha Niente Sino Del minerale Che però Volevo Estendere la casa Ma mi sa Che lo facciamo In un altro episodio Perché Prima vorrei Prendere Oltre cose Devo prendermi Di picconi Pure Perché Prendiamo In miniera Pronti A morirci Teniamo Il legno Questo Carbone Questo Questo E basta Non sta che 16 Bene E adesso Queste 16 Le lascio A Dario E adesso Ce le portiamo Noi Tanto Ne troveremo Altro Carbone Io Mi metterei Pure A dormire La notte Quando non c'è L'unità Poi mi setta Lo spawn point E se muoio Spawno Poi Poi Non voglio Morire Perché Con queste Belle cose Nell'inventario Sono cavoletti Amari Quella Quella Non lo Attacchiamo E andiamo Direttamente In miniera Abbiamo Levato L'acqua Che intelligente Che siamo stati Bene Vorrei Dire Che Mi scaverò Una Cosa Per andare Giù Mica Almeno Non ci sono Slime Perché Veramente Aspetta Ma di qua Ancora Non abbiamo Esplorato Io L'ho Shiftata Perché Altrimenti Vuolo Di sotto Come Non so Che cosa Carbone Noi Quando Siamo Venuti Qua Che Stavamo Guardando Che C'è L'episodio Che Uscito Domenica Ah Caro Zombie La Terra Sì Sì Vieni 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 Così Riportare Così Mi facevo Tolce Il diesel Non credo Che le finirò Visto Che ne avevano Stacke Però Esperienza Mi posso anche Shiftare Ma io Ho detto Questo Piccone Ok Il problema Dai Che lo finisco Dai che lo finisco E non l'ho finito Ah no Però Carbone Ancora Ce n'è Che le torce Fanno sempre Comodo Adesso poi Mi illumino Anche la casa La strada Con Questo Caso Guarda Puoi venire Benissimo Mi cerco Sotto Alla C'è Dell'acqua Possiamo Levarci C'è Lo scheletro E io Gli scheletri Li odio Andiamo Se bene Creeper Creeper Donna Santa Quanti Quanto Odio Di Dopo Gli scheletri Sono i mob Che odio Di più C'è Questo Zombie Qua Che tanto Non mi può Fare Niente Mi dispiace Mi sa Che Miniera Ci vado Quando c'è Dario Perché Non Se può Io Faccio Schif Miniera Lo so Quindi Andiamo A recuperare Un po' Di Betulla Ma Questa Abbiamo Esplorato Tutto Non so Perché Di sopra No Sinceramente Mi sono Rilovata Che andando Da quel lato Veramente Si va Sotto Casa Mia Così E Che y Che y che ah scusate che avevo fatto sistemare un coso e si è bloccato minecraft grazie caricamento di due ore ah no stavolta è solo in questa stazione devo fare una cosa salto automatico grazie se funziona sto salto ah si però non è una buona idea uscire ok ok magari sto lavoretto lo facciamo di giorno che è meglio così semplicemente lo metto mostro in mezzo alle scatole direi che quindi appena si fa giorno di nuovo facciamo un bel caio e appena si fa giorno come te lo spiego miglioriamo la casa perchè io non posso più stare così mi faccio anche un balconcino da qualche lato allora le finestre in corrispondenza della porta e di là in corrispondenza della finestra ci sta un bel balconcino mi sono fatta tutto nei minimi dettagli ci vediamo dopo ok direi che giorno e mai ma cavolo proprio dove ci sono i cosimi dove tante comunque siccome la scia stava per finire me ne sono craftato un'altra e le dolce servono sempre quante se ne è messo effettivamente me ne metto due ah la non si può c'è una cosa posso rimetterle sopra le mettiamo qua sotto intelligente non le posso mettere sopra le metto sotto ah ma ecco dove l'ha finito scusate per vedere nella notte ho aperto il tetto dove ci dobbiamo mettere il vetro ormai ok sopra casa mia siamo finiti ed è rimasta questa sotto vabbè devo decidere ancora dove magari le scale le facciamo esterne qui ci ho avuto un'idea ma perché ci sono gli acquatici là vabbè notifiche che arrivano mentre leggiamo i video questo lo mettiamo a posto e ne ho solo 10 qua poi perché ho un gate chi l'ha craftato sto cosa beh non lo so l'avrò craftato io posso ricraftare le fence ogni tanto succede andiamo a fermare legna perché me ne serve anche giurla dove ci sono tutti quei nostri non ci vado però rimanete là voi scusate raga però ho seriamente paura di quelli là mi fanno una paura poi io faccio schifo nel combattimento qui là c'hanno anche il tridente ma ve ne potete tornare in acqua santinumi ma poi tu caro blocco quanto ti ci vuole per ricrescere l'erba vabbè perché questi qua non bruciano gli annegati ma poi raga pazienza io finisco di quanto devo andare io spero che il video vi sia piaciuto lasciate un commento un like iscrivervi attivare la campanellina in modo che i video vi attivino tutte le notifiche dovete mettere su tutte non su occasionale altrimenti non arrivano sempre e io spero che il video vi sia piaciuto alla prossima ciao ciao